Mi piace ricordare l'episodio di Katrin Switzer, la prima donna che ha corso ufficialmente la Maratona di Boston nel 1967. Ricordiamo i tentativi di fermarla perché non era consentita la partecipazione delle donne a questo tipo di gare. E però, grazie anche ai suoi compagni, gli atleti che correvano vicino a lei, lei ha potuto proseguire. Non ha voluto fermarsi e questo l'ha fatto per tutte le donne. E quindi questo è diventato un gesto simbolico, un simbolo per lo sport. Per le donne e diciamo che ha aperto la strada allo sport, al femminile.